Ci siamo, ci siamo Si parte con la classifica Anzi diciamo che possono mani di nullo con 5 virgola ora Questa è la mia famiglia, facciamo 3 secondi Siamo arrivati in quel tipo di pochi punti, che è un po' di piccola Siamo arrivati con 12 scena di morte 4 secondi e poi ci sono i testi di 592 in avanti un vicino a poco alle sedi e qui 592 0-0-1 come ora lì ma lì ma lì ma lì hanno dato la pezza non è piaciuta perché per avere l'amore era un po' più scopo che ho avuto la giornata siamo al top ten il teresimo posto per Ephr Lock in 6-58 che ha dato la sigla di casa contro la piccolata il numero posto, il numero posto per Priscilla Vig telefono con 649 Priscilla che la hallina della sera ci sono il quattro E' una delle più posizioni per il momento sul web, bisogna dire, eh? Viene da voi, dalla Finlandia, dalla strada dell'America, da qui è tutto. Ottima posizione per Rodasca, Cardoni. La settima posizione è Massimiliano Di Manco. Questa posizione stava a costi 7-0-7. Questa posizione è Massimiliano Di Manco. Questa posizione stava a costi 7-0-4. E' un'altra posizione. E' un'altra posizione. Sono rimasti. Ma dopo tutti, se ne lavorano, e adesso è di liberare. Terza posizione è Massimiliano Di Manco. Terza posizione è Massimiliano Di Manco. Questa posizione è Massimiliano Di Manco. Questa posizione è Massimiliano Di Manco. Questa posizione è Massimiliano Di Manco. Anche a lungo studio è Massimiliano Di Manco. E' Massimiliano Di Manco. Ma che rimasti, non è, non è, non è, non è. Grazie. Grazie.